cos'è successo il cagliari ha vinto finalmente una bella vittoria in casa 3 a 1 grande joao che meraviglia sto joao meraviglia ciao a tutti benvenuti bentornati sul canale post partita di cagliari sandoria vince il cagliari finalmente una bella vittoria casalinga un grande cagliari grande carattere finalmente si sta vedendo un po del lavoro del mister di mister mazzarri grande cagliari specialmente nel primo tempo cagliari grintoso che voleva vincere questa partita i giocatori hanno dato tutto anima e cuore in campo grande pressione su tutti i palloni gran bella partita il risultato è largo ma complimenti alla samp perché sia nel primo che nel secondo tempo la samp poteva segnare bisogna dare a cesare quello che è di cesare grande ritmo nel primo tempo non c'è stata storia cagliari ordinato ben messo in campo una buona difesa centrocampo che gira e attacco letale sempre lui joao meraviglia o sblocca lui dopo quattro minuti un gran bel colpo di testa cagliari vivo tanta corsa tanta grinta qualche rischio c'è stato è il palo di candreva palo clamoroso ma oggi era importante vincere e la vittoria è arrivata nella ripresa un buon cagliari fino al settantesimo circa come sempre nel finale un po di sofferenza raddoppio del cagliari con un super gol di martin caceres un tiro da fuori il difensore uruguagio si coordina stop di petto tiro dalla distanza di aviazione e gol sul finale tanta sofferenza perché la samp riesce a fare gol riapre la partita un gran bel gol di torsby torsby lasciato un po solo dentro all'area di rigore colpo di testa 2 a 1 ma poi nei tempi di recupero grande azione di nandez entra in aria grande assist per joao etapa invincente 3 a 1 finale grande cagliari grande grinta e tanta voglia di vincere è così che si giocano le partite casalinghe cagliari 3 samp 1 fatemi sapere cosa ne pensate della partita di questa grande vittoria del cagliari di questo joao meraviglia un bel commento qui in basso pollice in su se vi è piaciuto il video nel mio infobox tutte le mie pagine social a tutti quelli che non conoscono ancora il mio canale se volete supportare i miei contenuti doppio clic su iscriviti e sulla campanella per non perdere i prossimi video e le prossime mie live se vi fa piacere è gradita la condivisione un abbraccione e alla prossima forza cast edu iscriviti al canale